Un giro di estorsioni e usura fra Bergamo e Crotone. I carabinieri, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Brescia, hanno arrestato 13 persone. Sara Grattoggi. Sullo sfondo, la guerra per il controllo del trasporto merci tra due aziende della Bergamasca, con il coinvolgimento dell'Andrangheta, che due anni fa aveva portato a 19 arresti. Un'indagine mai abbandonata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Brescia, che ha portato ora ad altre 13 ordinanze di custodia cautelare, otto in carcere dove già erano detenuti, sette dei destinatari e cinque ai domiciliari. Tutto nasce dai due incendi nel 2014 e nel 2015 dei camion della PPB di Seriate di Antonio Settembrini, commissionati secondo l'accusa dal titolare della ditta concorrente Giuseppe Papaleo già in arresto. Per ottenere protezione, Settembrini finito ai domiciliari insieme alla moglie, si sarebbe rivolto al clan Calabrese Arena di Isola di Caporizzuto e insieme a alcuni affiliati avrebbe cercato con minacce e estorsioni di convincere Papaleo a fare cartello. In cambio avrebbe permesso l'infiltrazione del clan in una delle sue ditte, usata per ripulire denaro e poi fatta fallire. Estorsione, riciclaggio, bancarotta fraudolenta, detenzione illegale di armi e usura, le accuse a vario titolo nei confronti degli arrestati. Gli indranghetisti trapiantati nella Bergamasca avrebbero infatti organizzato anche un sistema di prestiti a tassi illegali e usato i proventi delle attività illecite, tra l'altro, per mantenere la famiglia di un detenuto e acquistare alcuni dei suoi immobili ora sequestrati.